TORNA TERAMO NATURA IN DOMITA 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 Esatto, infatti basta verificare anche il costo dei biglietti che applichiamo per i concerti rispetto agli altri luoghi dove gli stessi eventi si tengono. Noi cerchiamo sempre di limitare il costo dei biglietti proprio perché per noi l'obiettivo è un obiettivo culturale e sociale e quindi cerchiamo solo di offrire dei momenti di cultura alta alla città cercando di generare anche economia per la città perché ogni euro investito in eventi e manifestazioni sappiamo che poi produce quattro volte, cinque volte tanto. Grazie 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 Grazie